Il più cordiale saluto da etg edizione marchigiana del nostro notiziario che ricordo va in onda in contemporanea sia sulle frequenze di etv canale 12 che in streaming sul nostro sito ora inquadrato www.etvmarche.it Notizie che trovate tra l'altro aggiornate H24 anche sulla nostra pagina Facebook etv Marche così come sulla nostra app scaricabile gratuitamente per smartphone e tablet etv Marche. Apriamo questa edizione parlando tra poco dello sciopero generale indetto da CGL e Will con inevitabili disagi anche nelle Marche ma prima di questo un'allarme bomba nei tribunali di Urbino e Pesaro. Chiusa via Raffaello blindato piazzale Carducci c'è un ordigno questo avrebbe detto al telefono un uomo misterioso nel palazzo di giustizia pesarese i controlli hanno dato esito negativo. Ora la squadra con i cani addestrati si è messa a lavoro nella sede ducale per fugare ogni rischio. Ora veniamo allo sciopero generale quali le modalità quali le conseguenze. Sarà un venerdì nero lo sciopero generale indetto da CGL e Will per venerdì 17 novembre toccherà treni e mezzi pubblici ma non solo. La stensione dal lavoro riguarderà anche scuola, università, sanità, forze dell'ordine e poi i servizi di posta e nettezza urbana e in genere il pubblico impiego con fasce orarie diverse da settore a settore e da città a città. Garantiti comunque i servizi essenziali. Dopo la minacciata precettazione del ministro dei trasporti Matteo Salvini, treni e autobus compresi i trasporti locali saranno fermi per quattro ore invece di otto, dalle nove alle tredici, assicurando le fasce di garanzia e i servizi minimi. Fermi anche taxi e trasporti marittimi, non invece gli aerei. Otto ore di sciopero per scuola e sanità, quattro invece per i vigili del fuoco. A rischio non solo l'apertura delle scuole e l'effettuazione di visite mediche programmate, ma dunque anche il funzionamento delle poste e la pulizia delle strade. Ad Ancona il servizio di igiene urbana fa sapere il comune non verrà effettuato. Regolari nel comune d'Orico tutti gli scuolabus comunali. La protesta indetta dai sindacati è diretta a dare un segnale forte e chiaro di disapprovazione nei confronti della manovra finanziaria del governo. Una norma, dicono CGL e UIL, che non dà risposte all'emergenza salariale, non investe in salute e sicurezza, non combatte l'evasione fiscale. Sbagliata quindi in tutti i suoi punti fondamentali, lavoro, sanità, pensioni e politiche industriali. Nelle Marche sono cinque le piazze dove venerdì sono in programma manifestazioni. A Iesi in particolare arriverà il segretario generale della UIL FPL nazionale Domenico Proietti insieme ai segretari generali di CGL Marche Giuseppe Santarelli e UIL Marche Claudia Mazzucchelli. Manifestazioni previste anche ad Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro. A proposito di disagi anche nella sanità, possibili problemi per lo sciopero di oggi infermieri. Infatti in sciopero nelle Marche mancano centinaia di unità. Facciamo il punto anche su questo. Ci sentiamo in dovere di far sentire la nostra voce in quanto questa riduzione dell'assegno pensionistico comporta il rischio di una uscita importante di molti infermieri dagli ospedali, dal territorio, dal servizio sanitario nazionale. Saranno molti gli infermieri che prenderanno parte allo sciopero di venerdì, spiega il presidente dell'ordine di Ancona Giuseppino Conti, pur ribadendo la neutralità dell'ordine professionale rispetto alle scelte politiche. Tuttavia, aggiunge, i temi sono più pressanti che mai. Non solo il problema pensioni ma anche le richieste relative a rinnovi contrattuali e poi il riconoscimento professionale di una categoria di lavoratori quanto mai carente nel nostro sistema sanitario. Attualmente ci sono circa 19 mila infermieri a livello nazionale che hanno superato i 42 anni di contribuzione e quindi rischiano di lasciare il servizio nazionale in tempi brevi dando un duro colpo alla carenza di organico già cronica e mettendo in serie difficoltà non solo il PNRR ma l'assistenza primaria ai nostri cittadini. La ragioneria generale dello Stato ha quantificato la carenza di personale infermieristico intorno alle 65 mila unità e di queste un terzo quindi per potenziare il territorio. Nelle Marche noi consideriamo che da una nostra indagine occorrono circa 200 infermieri per il territorio e 300-400 infermieri per garantire l'organico ospedaliero. Un infermiere italiano guadagna in media tra il 30 e il 40% in meno rispetto a un collega europeo anche per questo sono sempre di più gli infermieri italiani che scelgono di andare a lavorare all'estero e molti sono comunque coloro che abbandonano la professione. Un infermiere su quattro a distanza di un anno chiede di cambiare unità operativa. Di questi il 30% intendono abbandonare la professione in tempi brevi. Una vicenda che continueremo a seguire. La cronaca ora lasciano in casa in affitto e cane nel box pitbull morto di stenti senza cibo e acqua. La vicenda drammatica viene da Cupra Montana. Prendono in affitto un appartamento appunto a Cupra Montana ma poi se ne vanno senza avvertire e lasciano il cane un povero pitbull nel box condannandolo a morire di stenti di fame e di sete. Nel mirino una coppia di trentenni ora denunciati per uccisione e maltrattamento di animali in concorso. Come Bonnie e Clyde invece. Un'altra storia questa volta di cronaca da Pesaro. Ancora ricercati i detenuti evasi dal regime di semilibertà. Come Bonnie e Clyde sono ancora ricercati i due detenuti albanesi. Una coppia di fidanzati implicati in un tentato omicidio che sono evasi durante la fase di regime di semilibertà. Non sono rientrati ieri in carcere a Pesaro dopo la giornata di lavoro passata in un'azienda agricola di San Bartolo. I due reclusi che hanno la residenza nella zona di Ravenna avevano ottenuto la possibilità di lavorare all'esterno del carcere proprio per la loro buona condotta ma hanno fatto perdere le loro tracce. Chiudiamo con la giornata della bimbo prematuro. La giornata della prematurità a Civitanova. Un momento di sensibilizzazione sul tema. Le nascite premature sono quelle che avvengono prima della trentesima settimana di gestazione e in Italia si stima un dato del 6,4% che i numeri sono oltre i 30.000 casi l'anno. L'ospedale di Civitanova Marche che si attesta sui 700 nascituri l'anno riesce a gestire i nati dalla 34esima alla 37esima settimana. Quelli nati in precedenza sono dirottati al Salesi di Ancona ma i problemi sono ugualmente tanti sia dal punto di vista medico che di rapporti con le famiglie. La presenza di mamma e papà rappresenta proprio un modello di cura genitoriale a cui devono partecipare. Per far questo tutti i reparti di pediatria, le terapie intensive neonatali si muovono e si stanno muovendo, ognuna con le sue possibilità e con i suoi spazi per far stare i genitori con non una presenza di orario di entrata ma 24 ore su 24, la possibilità di entrare, stare a contatto, toccare, accogliere, stringere, far annusare il proprio odore al proprio bambino. Dunque la vicinanza mamma neonato è fondamentale e proprio per questo si sta sempre più diffondendo il concetto di bonding. Il bonding è un processo di attaccamento, di cementificazione per dare le basi a quello che è un buon adattamento a questo nuovo neonato. Il bonding ci aiuta in quello che è la stabilizzazione metabolica, in quello che è l'immunità specifica per il bambino, l'adattamento alla vita esterna, al di fuori dell'utero, quindi alla forza di gravità. Al reparto di pediatria di Civitanova ha fatto visita anche il primo cittadino Ciarapica proprio per celebrare e sensibilizzare l'occasione della giornata della prematurità con la città che in alcuni punti si colorerà di viola, colore scelto anche per il pupazzetto del polipo dell'Octopus Terapia. Con questo servizio del collega Roberto Properzi si chiude questa edizione marchigiana di Etg. Vi lasciamo alla sintesi della nostra rassegna stampa. State con noi.